Se volete acquistare crediti a prezzi stracciati passate da FIFA coins buy e con il codice coupon LAZZA avrai 6% di sconto Link in descrizione Detto questo, buona visione Wow ragazzi sono Harry Lazza bentornato in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi sono qui in questo video aggiornamento perché ragazzi volevo parlarvi un po' delle novità che sono sorte ieri sera quando la EA ha pubblicato il video dove spiegava le ultime novità su FIFA Ultimate Team 16 Chuboi un noto collaboratore degli EA che è praticamente un interlocutore se possiamo chiamarlo così tra la community di FIFA e appunto l'azienda Ci ha spiegato che la web app, la app Companion, quella per il telefono saranno disponibili dal 17 settembre L'ora non ce l'ha ancora comunicata però ci ha detto il giorno Quindi ragazzi dal 17 settembre la web app e l'app Companion saranno disponibili Andiamo avanti ragazzi Boy spiega che le carte su food saranno molto più facili da comprare e sono anche più facili da vendere In quanto la fascia di prezzo come vedete da questa immagine sarà molto molto più ampia Un esempio 50.000 crediti, 200.000 crediti Questa grafica mostra anche la differenza tra FIFA 15 e FIFA 16 Quella di FIFA 15 è quella colorata in oro mentre quella di FIFA 16 è quella colorata in azzurro Quindi potete vedere l'ampio distacco tra il prezzo di partenza compra ora e il prezzo iniziale e il prezzo finale compra ora Poi una novità che aspettavate davvero in molti è quella dei FIFA Points Che saranno trasferibili da Xbox 360 a Xbox One e da PS3 a PS4 E ovviamente da FIFA 15 a FIFA 16 Ah, ultima cosa riguardo la notizia di prima sequa della web app Chuboy ha anche comunicato che la web app sarà disponibile finché i siti di crediti oppure quei bug o quei glitch non saranno appunto eseguiti Quindi la web app potrà funzionare finché appunto questi glitch la smetteranno di appunto fare crediti gratis Ma in teoria hanno risolto anche come praticamente fermare questi glitch Altra cosa che hanno comunicato è quella che il mercato di PS3 e PS4, Xbox 360 e Xbox One saranno separati completamente Quindi avremo un unico mercato per PS4, unico mercato per PS3, unico mercato per Xbox One e unico mercato per Xbox 360 E quindi non più come l'anno scorso PS3 e PS4 e Xbox 360 e Xbox One Se vi chiedete perché hanno fatto ciò è per il motivo dei siti di crediti che l'anno scorso usavano il glitch che parlavo prima Per tipo ad esempio sulle console old gen era molto 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 più facile farsi i crediti con il coins farming oppure con i siti Quindi hanno deciso che prevenire è meglio che curare Quindi ragazzi ricapitolando tutte queste notizie che vi ho detto Il mercato sarà disponibile sulle web app e app companion che saranno disponibili dal 17 settembre Le fasce di prezzo saranno molto molto più ampie Esempio per non farmi quello di prima 600.000 crediti, 800.000 crediti Poi sarà diviso il mercato tra old gen e next gen Quindi PS3 sarà da solo, PS4 sarà da solo e così anche per Xbox E ultima cosa i FIFA Points saranno trasferibili da PS3 a PS4, Xbox 360, scusate Xbox One E da FIFA 15 a FIFA 16 Quindi ragazzi questo video finisce qui Spero vi sia piaciuto e spero vi sia stato utile Come al solito lasciate un bel like ragazzi Arriviamo a 60 like per questo video Se vi chiedete per come ho pubblicato questo video nel giorno del Lifestyle Happy Day È per il semplice motivo che io non aderisco a questa giornata Quindi ragazzi come al solito Facebook, Twitter e Instagram in descrizione Che dire ragazzi? Qui da in realtà è tutto Bello